Iniziativa nobile, quella dell'associazione Prima Aurora, che ha deciso di donare alberi a tutte le scuole di Torre del Greco. Questa mattina le telecamere di TV City hanno documentato l'evento presso l'istituto comprensivo De Nicola Sasso. A piantare l'albero, il presidente dell'associazione Prima Aurora, Silvano Somma. Abbiamo deciso di piantare un alberello in ogni scuola di Torre del Greco e in tante altre scuole del territorio, proprio come segno di rinascita. Abbiamo per questo motivo deciso di piantare una specie autoctona, un corbezzolo, che tra l'altro è anche il simbolo, oltre dell'Italia stessa, perché i colori ci rimandano proprio a quelli della bandiera, ma anche proprio della rinascita del Vesuvio, perché con il Vesuvio deve rinascere l'intero territorio. Abbiamo deciso anche poi di mandare un lettro ufficiale al Ministero dell'Ambiente e dell'Istruzione, affinché questa idea, diciamo, di regalare nel periodo natalizio un albero alle scuole, possa essere diffusa a livello nazionale. Riforestiamo il gigante. Di che cosa si tratta? La tematica è molto affine appunto a quella del piantare alberi nelle scuole, e questo qua ha come obiettivo principale quello di rinaturalizzare le aree del Parco Nazionale che si sono incendiate nel 2017, nel tragico evento che tutti noi ricordiamo. Abbiamo quindi portato avanti questo progetto insieme ad altre 40 associazioni, insieme, diciamo, anche alla collaborazione anche del Comune stesso, e quindi in questi giorni avranno inizio proprio le prime fasi, quelle della messa a dimora degli alberelli. Per ora circa 800. Grazie all'Associazione Prima Aurora, stamattina sono state piantate dei corbezzoli, donate alla nostra scuola sia al Plesso Sasso che al Plesso Di Nicola, la nostra sede centrale. L'iniziativa è veramente da elogiare, anche perché permette ai nostri alunni di avvicinarsi al rispetto dell'ambiente. Ci saranno anche altre iniziative, sempre organizzate da questa associazione Prima Aurora, e diciamo che il corbezzo, quindi l'albero regalato e donato alle scuole della città, è simbolo di rinascita, quindi è un sempreverde, quindi speriamo che ci saranno altre iniziative, perché so che questa associazione sta facendo molto anche per far rinascere proprio il Vesuvio, dopo tutti gli incendi che ci sono stati in passato. Quindi speriamo di vedere rifiorire il verde nella nostra città e anche sulle falde del nostro Vesuvio. Quindi speriamo in altre altre iniziative, perché il nostro intento è anche di portare i nostri alunni sul Vesuvio, quindi appena sarà possibile organizzare questi mezzi di trasporto, perché adesso ancora siamo in piena emergenza, quindi non sarà facile. Magari dopo la famosa vaccinazione del personale scolastico e anche degli alunni stessi, finalmente possiamo ritornare alla vita normale, quindi anche riuscire a goderci il nostro ambiente, quindi anche il nostro verde, che abbiamo tanto verde qui nella nostra città. Grazie.